Buongiorno a tutti. Le emergenze che ci hanno colpito negli ultimi tempi non sono frutto del caso o di eventi naturali imprevisti o imprevedibili, ma il risultato intenzionale di una volontà maligna contro gli italiani e anche per la cosiddetta emergenza energetica è così. Lo diciamo da avvocati perché questo deriva direttamente dall'analisi di una normativa ingiusta che per il lucro di pochi ha aperto alla liberalizzazione selvaggia del mercato dell'energia e dei prezzi in aperto contrasto con la Costituzione e contro gli stessi italiani. Così noi dell'Associazione Avvocati Liberi ci siamo sentiti chiamati a difendere i cittadini da aumenti ingiustificati e illegittimi. Dalla stimata collega avvocato Rosa Di Dato nasce quindi l'iniziativa Pago solo il giusto. Gli aumenti in bolletta sono arrivati fino al 400%, ma ciò nonostante deve esservi chiarissimo Pago solo il giusto non è lo strumento per sottrarsi a pagamenti che invece ci competono per i consumi di luce e gas, ma solo un mezzo per difendersi da una pericolosissima aggressione economica cercando di non subire il depotenziamento o il distacco della fornitura. Se non pagate l'intero importo richiesto e magari avete già una morosità vi distaccheranno immediatamente l'utenza, ma se invece riusciste a pagare subito tutto l'importo richiesto riceverete comunque sia un grave danno economico subito e che si rivela comunque insostenibile nel tempo. Perciò per evitare entrambe le cose noi diciamo che vogliamo pagare ma vogliamo pagare solo il giusto. Se quindi vi sono state recapitate delle bollette che ritenete palesemente esagerate rispetto a quelle dell'anno precedente o rispetto ai consumi, dovete subito contestarle, aprire un reclamo allegando la ricevuta di pagamento del giusto e addebitando l'eccedenza allo Stato e agli speculatori che stanno facendo e hanno fatto grassi extra profitti. Se non si risolve così come è possibile si dovrà avviare anche la conciliazione da una posizione anche in questo caso di correttezza ed equità contrattuale potendo documentare fattivamente di aver già pagato il giusto. Nel nostro vademecum abbiamo indicato e descritto tre modi semplici per calcolare il giusto, il giusto da pagare con criteri analitici oppure equi o comunque ragionevoli. Sempre nel vademecum c'è un modello per revocare innanzitutto il read bancario a favore del fornitore se lo avete fatto perché altrimenti le bollette vi verranno addebitate in via automatica. Se invece questo è già accaduto, cioè vi hanno già addebitato le somme indicate nelle bollette, revocatelo ugualmente prima che potete e poi chiedete la restituzione al fornitore e agli altri enti che trovate l'indirizzo sempre secondo il modello che abbiamo pubblicato. Allora noi non abbiamo la soluzione perché la soluzione quella vera e radicale può arrivare solamente da una decisione politica perché è stata la politica a creare il problema e allo stesso modo la politica potrà risolverlo e deve risolverlo. Ma proponiamo immediatamente una forma di protesta in autotutela onesta e ragionevole verso un'imposizione economica illegittima che aggredisce i cittadini e i loro diritti più basici. Perciò allora sul nostro sito www.avvocatiliberi.legal nella sezione risorse al cittadino abbiamo reso disponibili gratuitamente tutti gli atti e i modelli per aderire a questa iniziativa difensiva. Basta collegarsi e scaricare il vademe come esplicativo con la spiegazione passo dopo passo di come calcolare l'appuntare dell'importo del pagamento equo e giusto da effettuare e delle lettere necessarie. È già tutto semplificato al massimo ma per facilitarvi ancora di più a questo video ne eseguiranno altri, sono dei video tutorial con la guida e alla compilazione di ogni documento. Se ciò nonostante ci fossero ancora dubbi o domande potrete scrivere una mail a pagosulloilgiusto www.avvocatiliberi.legal da cui gli avvocati del dipartimento energia risponderanno a domande di rapida soluzione. Se perciò ritenete che vi sia stata recapitata una bolletta sproporzionata palesemente esorbitante e ingiusta potrete pagare solo il giusto e non ci sono scuse per non farlo e per non aderire come vedete. A questa iniziativa partecipano già sindacati e associazioni e comitati spontanei tra cui anche due sindacati di rilevo nazionale come il sindacato Fisi e il sindacato Osa e poi anche associazioni come i diritti umani e salute, il coordinamento 15 ottobre, io apro, arbitrio, no partite IVA, io non pago, umanità e ragione. Insomma se aderiremo in migliaia o in milioni questa iniziativa potrà avere grandissime opportunità di successo. Un saluto a tutti. Grazie a tutti.